Un sistema di videosorveglianza ad alta tecnologia per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare il patrimonio ambientale. E' quanto ha fatto il comune di Perdifumo dotandosi di un sistema composto da 63 telecamere posizionate su tutto il territorio comunale. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Paolillo, d'intesa con le forze dell'ordine, ha deciso di accendere gli occhi delle telecamere su tutti i punti di ingresso del comune cilentano, oltre che nel centro abitato del capologo comunale e delle varie frazioni. Le telecamere già attive sono state inoltre installate anche presso alcuni locali comunali, spesso oggetto di atti vandalici e in alcuni punti del territorio comunale dove abitualmente venivano abbandonati rifiuti di ogni genere. Con questo sistema di videosorveglianza, spiegano da Palazzo di Città, avremo un controllo capillare sul nostro territorio comunale, dando maggiore sicurezza ai cittadini in caso di furti o atti vandalici e tutelando la nostra ricchezza ambientale, visto che ci sono delle aree usate purtroppo da incivili per abbandonare rifiuti di ogni genere. L'impianto di videosorveglianza ad alta tecnologia è stato attivato nel pieno rispetto della privacy, con l'ausilio di un sistema che consente la mascheratura di tutte le abitazioni private eventualmente poste nell'area visiva della telecamera, in modo da garantire la riservatezza in qualsiasi posizione dell'ampiezza di ripresa dell'obiettivo.